Oggi è il 22 maggio, cadono proprio 41 anni esatti dall'introduzione della legge 194. Emma Bonino è responsabile diretta, e se ne vanta, di 6 milioni e 65 mila bambini non nati. Sono le forze che mancano all'Italia da 40 anni a questa parte per sfidare l'Europa e il mondo. Noi non abbiamo stima della signora Bonino, noi del popolo e della famiglia chiediamo un voto anche per dire no alla cultura della morte che la incarna. Grazie a tutti.